buongiorno presento questo messaggio a nome mio e di tutte le persone che compaiono alla fine di questo video la tenaglia della censura sta per stringersi sulla rete e sulle voci della libera informazione ancora non si sono palesati in tutta la virulenza ma i segnali ci sono già tutti questa voglia di censura si sta articolando su due fronti precisi e distinti il primo ramo della tenaglia è la legittimazione del cosiddetto giornalismo dei professionisti ovvero l'informazione mainstream come unica fonte valida per ricevere informazioni affidabili il secondo ramo della tenaglia è la delegittimazione uguale e contraria delle voci della libera informazione ora stiamo stabiliamo intanto bene l'uso dei termini io la definisco libera informazione che è un termine molto più ampio di contro informazione perché noi in realtà siamo liberi noi viviamo praticamente solo di abbonamenti e di donazioni e non dobbiamo rispondere a nessuno di quello che facciamo se non al nostro pubblico che ci sostiene le grandi televisioni invece non sono libere perché loro per vivere hanno bisogno degli sponsor pubblicitari senza sponsor muoiono e se a uno sponsor un certo discorso non piace quel discorso semplicemente in tv non viene fatto sulle televisioni nazionali non vedrete mai ad esempio una seria discussione approfondita sulla sicurezza dei vaccini perché uno dei più grossi sponsor delle televisioni sono le case farmaceutiche e alle case farmaceutiche ovviamente non fa piacere che si mette in discussione la sicurezza dei vaccini ecco perché da fazio voi vedrete sempre soltanto burioni che pontifica senso unico ma non vedrete mai nessuno che gli fa un serio contraddittorio né vedrete mai sulle televisioni ad esempio una seria discussione sulla potenziale pericolosità del 5g perché un altro dei grossi sponsor delle televisioni sono le grandi multinazionali della telefonia e a loro ovviamente non fa piacere che venga messa in discussione la sicurezza delle loro tecnologie attenzione non sto dicendo necessariamente che i vaccini non siano sicuri o che il 5g sia sicuramente dannoso per la salute sto solo dicendo che discussioni vere approfondite con un vero contraddittorio su questi argomenti importantissimi per la nostra salute in televisioni non le vedrete mai perché le televisioni non sono libere sono controllate dagli sponsor che gli pagano gli stipendi e i costi di produzione noi invece siamo liberi possiamo fare tutte le interviste che vogliamo possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo e questo naturalmente dà molto fastidio a quelli che vorrebbero il controllo totale dell'informazione e adesso che i nostri numeri stanno aumentando di parecchio visto che ormai tutti insieme facciamo svariati milioni di visualizzazioni ogni mese hanno deciso di partire a contrattacco questa è la premessa vediamo adesso più da vicino i due rami di questa manovra a tenaglia che vorrebbe soffocarci tutti il primo ramo come dicevo è quello della auto legittimazione noi del mainstream siamo gli unici di cui potete fidarvi chi lo dice lo diciamo noi del mainstream autoreferenzialità appunto guardate questo video che è stato trasmesso di recente dalle reti mediaset oggi più che mai l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza le notizie sono una cosa seria fidati dei professionisti dell'informazione scegli gli editori responsabili gli editori veri scegli la serietà scegli gli editori responsabili scegli la serietà eccoli qui chi sono gli editori responsabili sono loro la rai mediaset e la sette più tutti i quotidiani più importanti peccato che se vai poi a guardare più da vicino i primi a raccontare fake news siano spesso proprio loro facciamo qualche esempio un classico ormai passato alla storia risale al 2014 il ministro della salute lorenzin va da bruno vespa e mette in atto una vera e propria azione di terrorismo mediatico descrivendo una terribile epidemia di morbillo che sarebbe avvenuta a londra l'anno precedente ricordo che solo di morbillo a londra c'è in inghilterra lo scorso anno sono morti 270 bambini poi qualcuno è andato a verificare sui siti del governo inglese e ha scoperto che l'anno prima cioè il 2013 c'è stato un solo morto di morbillo un adulto fra l'altro di 25 anni che è morto per la complicanza polmonare la redazione di porta a porta è stata travolta da una valanga di mail di protesta io stesso ne ho scritta una chiedendo una correzione immediata della fake news ma non è successo niente la correzione da parte di vespa non c'è mai stata eppure il codice deontologico del giornalista dice chiaramente il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze l'anno dopo 2015 la lorenzina ripete la stessa bugia nella trasmissione piazza pulita di corrado formigli di morbillo si muore cioè si muore in europa c'è stata una crisi di un'epidemia di morbillo a londra e lo scorso anno sono morti più di 200 bambini nuovo controllo morti per morbillo in inghilterra nel 2014 cioè l'anno prima zero nuova valanga di mail di protesta comprese le mie con ripetute richieste di correzione e nuovamente nessuna correzione da parte di formigli eppure non c'è solo il codice deontologico c'è anche il testo unico dei doveri del giornalista a ricordargli che devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori invece niente nessuna correzione la bugia passa tranquillo sul mainstream viene ripetuta rimane impressa nella mente degli spettatori e quelli che si sono resi responsabili di propagarla non la correggono pur sapendo benissimo che era un fake lo sanno perché li abbiamo informati noi altro esempio giovanna botteri inviata da new york distorce platealmente una deposizione di rex tillerson futuro segretario di stato americano per farlo apparire un amico di putin che condona in qualche modo i suoi presunti crimini di guerra in siria presunti da marco rubio ovviamente che lo sta interrogando con la tensione alle stelle al congresso il suo futuro segretario di stato rex tillerson chi della russia è notoriamente un amico prende le distanze da mosca ma non da putin alla domanda del repubblicano rubio se lo considera un criminale di guerra risponde no ora io mi sono stupito di una risposta del genere da parte di tillerson allora sono andato a cercare lo scambio originale con marco rubio e ho scoperto che la risposta di tillerson è stata completamente distorta dalla botteri tillerson non ha mai detto no per me putin non è un criminale e quindi sottinteso condono le sue azioni in siria ma ha detto che lui non userebbe mai quel termine che si tratta di una accusa molto grave e che prima di fare un'affermazione del genere avrebbe bisogno di molte più informazioni di quelle disponibili guardate let me ask you this question is vladimir putin war criminal I would not use that term those are very very serious charges to make and I would want to have much more information before recent conclusion ora è un fatto molto grave per una giornalista della rai distorcere in quel modo le parole del ministro degli esteri americano anche in questo caso io avevo scritto alla redazione del tg chiedendo una correzione ma anche in questo caso la correzione non c'è stata altro esempio enrico mentana prima dichiara di sostenere apertamente la posizione del cicaps l'11 settembre cioè la versione ufficiale del governo americano praticamente e poi manda in onda 16 fake news consecutive 16 di numero una dietro l'altra raccontate da attivissimo in una sola trasmissione un record assoluto credo che non verrà mai battuto nella storia io faccio un video questo dove dimostro documenti alla mano che tutte le affermazioni di attivissimo sono false dalla prima all'ultima e lo segnalo alla redazione di mentana per chiedere una correzione siamo ancora qui ad aspettare che arrivi evidentemente per giornalisti come vespa formigli botteri o mentana il codice deontologico è solo carta straccia un ultimo esempio clamoroso avvenuto lo scorso gennaio sempre sulla 7 andrea purgatori presenta uno speciale sulla morte di soleimani e su twitter annuncia con gran fanfara le immagini dell'uccisione del generale soleimani sentite con quale enfasi drammatica purgatori commenta le immagini sono immagini drammatiche anche se in bianco e nero come vedete c'è un convoglio sentite sentite le parole del pilota che sta manovrando il drone guardate come vengono colpiti uno ad uno tutti i convogli ora ci saranno dei puntini bianchi guardate sulla destra sono uomini che cercano di scappare da questo attacco peccato che le immagini che sta mandando in onda siano quelle di un videogioco non solo non sono le immagini dell'attentato soleimani ma non sono nemmeno immagini reali preso in castagna non solo purgatori si rifiuta di correggere l'errore ma raddoppia addirittura la posta stuzzicato su twitter niente poco di meno che da paolo attivissimo purgatori risponde certo che è un videogioco lo sapevo ma rappresentava tecnicamente una perfetta dimostrazione di come colpisce un drone peccato che lui stesso in trasmissione ci abbia confermato che non fosse un videogioco sentite vi faccio subito vedere una cosa ed è una cosa che somiglia molto a un videogioco ma non è un videogioco quindi cosa fa purgatori ci rifila un fake e nel frattempo ci assicura che non si tratta di un fake cioè ci mente sapendo di mentire questo è un caso talmente perverso che non penso sia nemmeno contemplato nel famoso codice deontologico dei giornalisti quindi bruno vespa i formigli le botteri i mentana i purgatori sarebbero questi i famosi professionisti dell'informazione di cui dovremmo fidarci a scatola chiusa come direbbe antonio razzi non credo ci sono certamente in giro degli ottimi giornalisti che riescono a fare bene il loro lavoro nonostante le pastoie che gli impone il sistema e a questi vanno tutte le lodi possibili ma ce ne sono anche tanti come abbiamo visto che fanno i furbini e mentono sapendo di mentire pur di portare avanti la loro agenda politica o personale quindi come in tutte le cose si giudica caso per caso non si danno pass generalizzati a nessuno qui non si fanno sconti per comitive troppo comodo dire noi siamo l'informazione ufficiale fidatevi di noi la nostra fiducia ve la dovete guadagnare giorno per giorno servizio per servizio telegiornale per telegiornale veniamo adesso all'altro braccio della tenaglia l'attacco sempre più serrato alla libera informazione è un attacco che tende chiaramente a criminalizzarla per poi avere la scusa per tapparci in qualche modo la bocca questo disegno ormai è evidente è ben coordinato e arriva chiaramente dall'alto visto che ormai è a livello governativo guardate martella sottosegretario alla presidenza del consiglio creata unità contro fake news naturalmente si usa la scusa del coronavirus e così nel frattempo ci si vuole arrogare il diritto di decidere cosa sia falso e cosa no poi una volta stabilito questo principio sarà molto facile utilizzarlo ovunque torni comodo addirittura qualche sera fa andrea purgatori proprio lui ha dedicato una puntata di atlantide alle fake news il servizio si intitolava fake room la fabbrica delle bugie cioè praticamente quelli che ce le propinano impunemente sono anche quelli che dicono di volerne smascherare fantastico no un totale capovolgimento dei ruoli nella classica logica orwelliana io comunque di fronte a un titolo così importante come la fabbrica delle fake news mi sono seduto comodo in poltrona a guardare attentamente e cosa ho visto il nulla più assoluto purgatori ha fatto il solito minestrone di cose che non centrano niente una con l'altra ha messo insieme l'invasione dei marziani di orson wells la storia del finto alieno di roswell le missioni lunari la morte di paul mccartney il rapimento di aldomoro l'11 settembre la fialetta di colin powell hitler scappato in sud america elvis presley è vivo cioè mancava solo la terra piatta e il menu era completo tra l'altro ringrazio purgatori perché ha anche messo lo spezzone di un mio video dando così un po di visibilità al mio canale grazie bene dopo tutto questo minestrone mi sono detto vediamo un po cosa farà il nostro eroe visto che la trasmissione si chiama la fabbrica delle fake news vediamo un po come si fabbricano queste fake news invece niente dopo il minestrone purgatori ha intervistato quello che secondo lui era un epidemiologo enrico bucci epidemiologo della temple university di filadelfia buonasera ma che in realtà si è rivelato non essere affatto un epidemiologo guardate che figura per prima cosa io visto che ci siamo mi occupo di smontare subito una fake news prima che diventi importante io non sono un epidemiologo io sono un bio un biochimico e sono mi occupo di analisi dati complessi in biomedicina povero purgatori ne calpesta una dietro un'altra non sa nemmeno con chi sta parlando comunque a parte questa gaffe il succo è che nella trasmissione non ha minimamente affrontato l'argomento fake news dopo il biochimico purgatori ha intervistato un archeologo che ci ha spiegato che la donazione di costantino era un falso come se avessimo bisogno di lui per scoprirlo fra l'altro e poi ha intervistato uno psichiatra che ci ha fatto il preciso ritratto clinico del fabbricatore di fake news ascoltate il fabbricatore di fake news è uno che si mette lì alle 11 di sera e non so se ne inventa uno con tutto rispetto magari fa un lavoro qualsiasi il fabbricatore di fake news è uno che si mette lì alle 11 di sera e magari ne inventa una e dopo questa approfondita e rigorosa analisi scientifica praticamente la trasmissione finita lì cioè il tentativo ormai classico di associare le idiozie più disparate ai temi più seri e poi il nulla più assoluto questo non è giornalismo questo è impressionismo mediatico una pennellate via è il mordi e fuggi di chi in realtà non ha niente da dire molto più feroce invece e molto più subdolo è stato il tentativo di mentana di attaccare la cosiddetta galassia complottista nel suo insieme sulla sua rivista online open mentana ha pubblicato un lunghissimo articolo intitolato coronavirus le fonti del movimento sovversivo nuova resistenza italiana che incita a violare la quarantena l'autore dell'articolo è david puente un debunker dell'ultima generazione che è diventato lo scudiero preferito di mentana per questo tipo di operazioni che cosa hanno fatto in sostanza con questo articolo non potendo attaccare noi direttamente sono andati a prendere questo gruppo facebook chiamato nuova resistenza italiana io fra l'altro non conoscevo nemmeno e hanno detto loro incitano uscire di casa quindi a violare la legge andiamo un po vedere chi sono le loro fonti da dove prendono le loro informazioni hanno quindi tentato di fare un percorso all'indietro per cercare di collegare anche noi a quelli che loro definiscono un movimento sovversivo gli americani hanno un'espressione molto bella per questo meccanismo si chiama guilty by association cioè colpevole per associazione non puoi attaccare qualcuno direttamente e allora lo accusi in qualche modo di essere collegato a persone che tu definisci come sovversivi ora andiamo a vedere più da vicino chi sarebbero i colpevoli di questa malfamata associazione delinquere per farci capire meglio come stanno le cose david puente ha fatto addirittura ricorso a una specie di mappa del crimine un po come quando ti fanno vedere in televisione la mappa delle famiglie dei mafiosi nei documenti delle forze dell'ordine e il primo della lista di questi mafiosi ovviamente è claudio messora vediamo qual è la sua colpa bio blu di claudio messora ospita spesso personaggi controversi che riportano un'informazione alternativa al mainstream oddio questo è veramente un peccato mortale roba da metterlo subito al rogo senza nemmeno processarlo in realtà la vera colpa dimessora è stata quella di aver intervistato stefano montanari vediamo il capo di accusa di montanari ha definito il coronavirus un virus fasullo che risulta innocuo e che il vaccino sarà una truffa colossale per iniettarci qualunque cosa quindi montanari non ha violato nessuna legge ha semplicemente espresso la sua opinione con la quale fra l'altro nessuno è obbligato essere d'accordo io stesso ho intervistato montanari tre giorni dopo e con me ha ripetuto praticamente gli stessi concetti io non ero d'accordo con lui l'ho detto chiaramente ma gli ho comunque permesso di parlare perché lo scopo del dibattito è proprio questo confrontare opinioni diverse invece il patto per la scienza di burioni ha fatto addirittura un esposto contro montanari e nel frattempo ne ha approfittato anche per chiedere lo scuramento di bio blu così un passato mentre cerchiamo di silenziare il messaggio proviamo anche a dare una bella legnata al messaggero un altro colpevole di crimini e ferrati e giulietto chiesa pandora tv di giulietto chiesa ospita personaggi controversi e teorici del complotto mamma mia è pazzesco quello che fa giulietto chiesa ospita personaggi controversi mettiamo subito a rogo anche lui puente forse te lo sei dimenticato ma l'articolo 21 della costituzione dice tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure quindi qui se c'è qualche sovversivo sei tu puente nel senso che tu vorresti sovvertire alla costituzione impedendo a queste persone di parlare andiamo adesso a vedere quali sono le colpe specifiche attribuite da puente alle persone intervistate da pandora tv maglio di nucci che scrive per il manifesto ha tirato in ballo l'esercitazione nato nota come defender europe 2020 e i soldati americani senza mascherina ma signor di nucci ma cosa fa tira in ballo i soldati americani senza mascherina ma impazzito non lo sa che tirare in ballo è espressamente proibito dal codice penale in realtà cosa ha fatto di nucci ha semplicemente citato un video ufficiale del pentagono nel quale si vedono i soldati americani che atterrano in europa per le esercitazioni nato e si salutano e si abbracciano tranquillamente senza mascherina qual è il peccato di di nucci aver commentato un video ufficiale del pentagono tutto qua un altro criminale intervistato da pandora tv è maurizio martucci gestore di oasisana.com e autore su il fatto quotidiano che pone la teoria del rapporto fra 5g e nuovo coronavirus oddio martucci ha addirittura posto una teoria che eresia pensate non sappiamo praticamente niente del 5g perché nessuno ci dice niente veramente sappiamo ancora meno del coronavirus però david puente ha già capito che non ci può essere nessuna correlazione fra le due cose per cui si sente in diritto di mettere all'indice chi lo suggerisce cioè ma nemmeno ai tempi dell'inquisizione lavoravano così almeno gli inquisitori una base teorica ce l'avevano poi ancora marcello pamio gestore del sito disinformazione punto it è un sostenitore della medicina tradizionale cinese orrore la medicina tradizionale cinese è lì da 4000 anni che ci insegna come curarci in modo naturale e olistico ma non la si può sostenere magari perché non vende i prodotti di big pharma sarà per quello che a puente non piace la medicina cinese e poi secondo pamio la paura abbassa le difese immunitarie no puente non è secondo pamio è secondo tutti lo sanno anche i paracarri che la paura abbassa le difese immunitarie sta scritto persino sulle agenzie di stampa stress paura e ansia riducono le difese immunitarie ma questo pamio non lo può dire perché don rodrigo puente de torquemada ha deciso che non si può francesco oliviero medico iscritto all'ordine che segue la medicina tradizionale cinese e l'omeopatia sostiene che il virus non si combatte stando a casa vincenzo danna senatore e presidente dell'ordine dei biologi sostiene che il covid 19 sia poco più di un'influenza e che sia una grande cantonata politica nuovamente puente sono opinioni c'è scritto sostiene sono discutibili finché vuoi ma sono perfettamente legittime articolo 21 della costituzione non è così difficile da memorizzare provaci e poi naturalmente c'è un angolino anche per me nella mappa del crimine massimo mazzucco protagonista di diversi video di fantascienza complottista è autore del video che accusa gli americani dell'epidemia covid 19 puente per quel che riguarda la fantascienza complottista ti comunico che il mio film 11 settembre la nuova per l'arbor è uscito già da sette anni ed è ancora lì che aspetta qualcuno con lo smonti finora nessuno ci ha mai nemmeno provato i tuoi amici debunker se ne tengono saggiamente alla larga però se tu vuoi confrontarti con me sull'11 settembre io sono a tua disposizione così vediamo chi dei due racconta fantascienza e poi puente dai mazzucco è autore del video che accusa gli americani dell'epidemia covid 19 io non ho mai accusato nessuno non sono così stupido da farlo io nel mio famoso video del pipistrello ho semplicemente messo in fila i diversi elementi a sostegno di questa teoria che fra l'altro è stato suggerita dallo stesso governo cinese ma io stesso ho detto alla fine che non posso esserne sicuro ascolta bene quello che dico alla conclusione del video ora io non posso sostenere che sia questa per forza la spiegazione di tutto quello che sta succedendo io solo ho messo in filo una serie di elementi che portano ad una conclusione sensata se ce ne sono altre cari giornalisti ben vengano fatevi avanti quindi vedi puente dici pure le bugie nel tuo articolo io non ho mai accusato nessuno tu distorci le frasi altrui e racconti fake news proprio mentre sostieni di volerle combattere in sintesi qui abbiamo un intero articolo basato sul nulla più assoluto dov'è tutto questo complottismo sovversivo niente non c'è solo parole vuote solo aria tiepida come dicevo prima questo articolo è un po come un quadro impressionista è come il pointillismo visto da lontano sembra dare l'impressione di qualcosa ma poi se ti avvicini scopri che sono solo dei puntili colorati vedi da lontano questa mappa di presunti criminali poi ti avvicini e ti accorgi che siamo solo persone normali che cercano di fare al meglio il loro lavoro e che non hanno mai minimamente violato la legge con una differenza però i quadri impressionisti ti lasciano comunque nell'aria quel senso di leggerezza e di allegria estetica mentre questo articolo caro puente lascia nell'aria un pessimo odore e l'odore della diffamazione l'odore del cattivo giornalismo l'odore della censura travestita da finta indagine sociale a questo punto qualcuno dirà vabbè chi se ne frega puente e solo un pessimo giornalista in fondo ce ne sono tanti in giro uno più uno meno non è che faccia una gran differenza no no non è così semplice perché il nostro caro david puente l'autore di questo articolo spazzatura è proprio una delle punte di diamante della task force governativa contro le fake news avete capito di che tipo di gente ci stiamo mettendo in mano questi sarebbero quelli che si arrogano il diritto di decidere cosa è falso e cosa no e vorrebbero farlo addirittura a livello governativo in conclusione stiamo per uscire tutti dal tunnel del coronavirus e stiamo andando incontro a un periodo estremamente difficile cruciale direi per le nostre libertà finita questa pandemia cercheranno in tutti i modi di approfittare della nostra debolezza sia mentale che economica per cercare di rendere permanenti alcune misure che ci avevano presentato come temporane e soprattutto per cercare di introdurne delle nuove non stupitevi se per caso in autunno vi ritrovate che per andare allo stadio oppure a un concerto bisognerà prima avere fatto tutta una serie di vaccinazione obbligatoria altrimenti tutti i buoni zitti a casa a guardare le partite in televisione oppure ascoltare i concerti sul telefonino perché è questa la prima cosa che cercheranno di ottenere le case farmaceutiche da tutto questo casino del coronavirus cercheranno di far passare le vaccinazioni di massa fino a farle diventare obbligatorie per tutti pensate che io sia un paranoico guardate qua zingaretti vaccini obbligatori nel lazio per due milioni e mezzo di persone stiamo valutando per il prossimo anno nel lazio di rendere obbligatorio il vaccino contro l'influenza a tutti gli over 65 a chi lavora nella sanità e in altre categorie di lavoro più esposte e di attività essenziali quindi siccome le attività essenziali le decidono loro moltissima gente se vorrà andare a lavorare dovrà farsi il vaccino obbligatorio è lì che vogliono arrivare le case farmaceutiche questa del coronavirus per loro è un'occasione d'oro quasi irripetibile e naturalmente utilizzeranno la televisione che loro pagano profumatamente per martellarci il cervello in modo da arrivare prima o poi a vaccinarci tutti obbligatoriamente per qualunque cosa con buona pace della costituzione che dice nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana invece i limiti li violeranno eccome grazie alle nostre paure e al nostro stato di confusione vedrete con la scusa del coronavirus quanti limiti cercheranno di violare cercheranno di introdurre ad esempio il tracciamento elettronico dei nostri movimenti col telefonino esattamente come hanno fatto in china con i cittadini di wuhan chaque petit point rouge représente un ca e dans une société chinoise o chacun è surveillé par ses achats e déplacements o la reconnaissance faciale impossibile de passer in aperçu da noi non oseranno mai fare una cosa del genere dite? coronavirus app in arrivo volontaria e anonima il lavoro della task force istituita per studiare l'utilizzo di un'app per il tracciamento dei contatti per evitare il diffondersi del coronavirus è alle fasi conclusive naturalmente per ora ti dicono che è volontaria e anonima però poi cosa ti succede se un giorno scopri che se tu non sei tracciato magari non puoi salire sull'autobus non puoi andare in biblioteca o non puoi entrare in un supermercato o accetti la tracciatura oppure te ne stai chiuso in casa a marcire e al supermercato ci mandi tua cugina quindi sarà pure volontario ma bisogna vedere a quali ricatti saranno sottoposti quelli che non vogliono accettare ricordate che una cosa è volontaria solo se uno può scegliere davvero liberamente senza condizioni altrimenti si chiama ricatto e il bello è che con l'aiuto del mainstream cercheranno di far passare questa schedatura di tipo poliziesco come una meravigliosa opportunità guardate la ferrari userà app tracciamento per dipendenti nella terza fase dice l'articolo ci sarà l'opportunità per ciascun collaboratore di servirsi di una app con tracciamento dei contatti per un supporto medico sanitario nel monitoraggio della sintomatologia del virus l'opportunità dovremo anche ringraziarli alla fine questi angeli premurosi che ci vogliono seguire dappertutto naturalmente il piano è nato dalla collaborazione con un pool di virologi fra cui il professor roberto burioni il nostro benefattore universale ma non basta con la scusa del coronavirus presto troveranno anche il modo per entrarci in casa e portarsi via chi vogliono loro nuovamente pensate che siano paranoia complottiste questo è michael ryan direttore esecutivo dell'organizzazione mondiale della sanità sentite bene cosa ha detto lo scorso 30 di marzo durante una conferenza stampa la trasmission ha stato preso le strade e l'opportunità di tornare in unità ora dobbiamo andare a guardare le famiglie per trovare le persone che possono essere morti e rinnovarli e isolarli in modo sicuro e dignificato e questa è l'organizzazione mondiale della sanità che parla non è la bocciofila di paese quindi con la scusa del virus vogliono poter entrare in casa vostra e portarvi via i fratelli i genitori oppure i vostri figli in modo sicuro e dignitoso se lo riterranno opportuno poi tanti auguri quando andate dal giudice per cercare di farvele restituire naturalmente per arrivare a tutto questo hanno un bisogno assoluto di silenziare al più presto la libera informazione altrimenti rischiano che ci siano troppe persone che protestano e si pongono delle domande e questo non va bene e non stiamo parlando solo del fronte sanitario sia chiaro dopo il coronavirus approfittando della confusione ci sarà un tentativo globale di ridisegnare alla radice l'intera mappa del potere naturalmente a favore dell'elite e a discapito dei normali cittadini su tutti i fronti ci installeranno il 5G dappertutto senza nessun serio dibattito sulla sua pericolosità e senza nessuna garanzia scientifica sulla sua innocuità e nuovamente useranno le televisioni per invitare i loro esperti a raccontarci che non c'è nessun pericolo e che il 5G è una manna perché aiuta i medici a comunicare meglio fra di loro come se adesso i medici facessero fatica a comunicare usano tutti i segnali di fumo e aspettano con ansia il 5G che arrivi ci seppelliranno sotto un debito di centinaia di miliardi arrivati chissà da dove e con chissà quali clausole e useranno le televisioni per raccontarci che va tutto bene e che dovremmo essere felici per tutti questi soldi che ci verranno prestati salvo poi dover lavorare per i prossimi 50 anni per doverli restituire con interessi molto salati ovviamente è questa la dittatura che ci aspetta nel prossimo futuro la dittatura dell'informazione che manda un messaggio unificato e non tollera nessun contraddittorio in una democrazia una voce alternativa all'informazione mainstream è assolutamente indispensabile le opinioni diverse sono il cuore stesso del progresso sociale senza quello la democrazia muore e si instaura la dittatura del pensiero unico non saremo più schiavizzati a livello fisico come una volta con le catene ai piedi ma lo saremo a livello mentale con le catene nel cervello che è ancora peggio perché se controlli la mente delle persone controlli anche molto più facilmente le loro azioni quindi se noi verremo silenziati non saremo più in grado di difendere voi dalle restrizioni delle vostre libertà è quindi fondamentale in questo momento far sapere che siamo in tanti e che siamo tutti uniti dobbiamo mandare un messaggio forte e chiaro che noi siamo uniti e compatti e che non siamo disposti a farci mettere la museruola da nessuno per questo vi chiediamo di far circolare questo video ovunque possibile su youtube su facebook su whatsapp dovunque riusciate a farlo non lasciate niente di intentato non fermatevi finché non avrete esaurito ogni possibile contatto nella vostra agenda personale altrimenti fra poco verremo davvero tutti obbligati a inginocchiarci senza più fiatare di fronte al ministero della verità sono giuglietto chiesa giornalista scrittore approvo questo messaggio Marco Tosatti giornalista approvo questo messaggio sono Fulio Grimani giornalista scrittore documentarista inviato di guerra aderisco al 100% all'appello nel video di Massimo Mazzucco sono Tiziana Alterio giornalista e scrittrice e approvo questo messaggio sono Ivan Catalano ex deputato della camera dei deputati italiana e sono d'accordo con il video di Massimo Mazzucco sono Fabio Frametti giornalista direttore di border nights e approvo questo messaggio mi chiamo Raimondo Pische sono un medico chirurgo e approvo questo messaggio sono Alessandra Devetag avvocato del foro di Trieste e approvo questo messaggio sono Maurizio Blondè giornalista e sono d'accordo con l'appello di Mazzucco sono Dottor Stefano Scoglio ricercatore scientifico candidato al Primo Nobel della Medicina 2018 e approvo questo messaggio sono Margherita Furlan vice direttrice di Bandora TV e approvo questo messaggio sono Davide Barillari consigliere regionale del Lazio e approvo questo messaggio sono Patrizia Cecconi scrittrice collaboro con alcune testate giornalistiche online approvo questo messaggio sono Ugo Mattei avvocato e professore universitario giurista approvo questo video mi chiamo Marco Pizzuti sono saggista di inchiesta e approvo questo messaggio sono Corrado Malanga faccio il chimico sono uno scrittore e sono d'accordo con te caro Mazzucco sono Maglio Dinucci giornalista e analista geopolitico approvo questo messaggio sono Gustavo Alberto Palumbo architetto artista visivo blogger sono d'accordo con questo messaggio mi chiamo Marcello Pamio sono uno scrittore responsabile del sito disinformazione.it e approvo in pieno questo messaggio sono Martino Chiorboli psicologo e formatore e sono d'accordo con questo messaggio sono Franco Fracassi giornalista e scrittore e approvo questo messaggio Leopoldo Salmaso specialista in malattie infettive e sanità pubblica e pubblicista approvo in pieno questo messaggio sono Gaia Pasi docente e curatore di arte contemporanea e sono completamente d'accordo con questo video sono Francesco Celani fisico ricercatore multidisciplinare due volte candidato al nome della pace approvo il contenuto del messaggio giornalista di trucco sono Gabriele San Nino sono uno scrittore e un giornalista viva la Costituzione viva l'articolo 21 viva la democrazia naturalmente approvo questo messaggio sono Adriano Colafrancesco blogger e scrittore ho ascoltato il tuo appello lo condivido pienamente e per questo mi riservo di dare la più ampia diffusione su tutti i miei contatti sono Gin Toschi Marazzani Visconti sono pubblicista e ho scritto dei libri condivido pienamente questo video sono Erika Perucchietti giornalista e scrittrice e approvo questo messaggio sono Ugo Giannangeli avvocato approvo questo messaggio sono Roberto Germano autore di esaggi fisico e imprenditore ed approvo questo messaggio sono Mauro Scardovelli giurista e psicoterapeuta ovviamente approvo questo messaggio perché stanno introducendo la censura in Italia che è vietatissima dall'articolo 21 della Costituzione la censura infatti è tipica delle dittature proprie delle dittature quindi indica la fine della democrazia sono Tom Bosco direttore responsabile della rivista bimestrale Nexus New Times e approvo con tutto il cuore questo messaggio sono Lara Innocenzi docente di italiano e scrittrice e sono d'accordo con il messaggio sono Roberto Quaglia scrittore e ricercatore e approvo questo messaggio sono Giuseppe Turrisi di Accademia della Libertà a nome di tutto il gruppo condividiamo l'appello di questo video aderisco volentieri alla giusta iniziativa di Massimo Mazzucco e propongo dal canto mio una task force uguale e contraria a quella istituita dalla RAI per contrastare le fake news tra virgolette del sistema sono Claudio Messora di bioblu.com e sottoscrivo in pieno l'appello di Massimo Mazzucco uomo misurato uomo saggio uomo socratico è il Socrate dell'informazione indipendente lo sottoscrivo soprattutto nella parte in cui ribadisce l'importanza dell'informazione libera e indipendente in una democrazia perché non è più il momento dato l'accerchiamento in atto di essere tenui di essere cauti è il momento di uscire allo scoperto e gridare forte che siamo liberi lo dice l'articolo 21 lo dice la Costituzione è liberi vogliamo restare a giù a a a a Grazie.